Musica Liebe Luzernar, sei buon kind di sabo ho in di Zimbarerde. Ansonsta buon da kind bar maweirn das vornaugertege haus von Zivilschutz. Dopo pargiar gearbata, Luzern barbida chom anzötanbirtigan centro. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, unser Bürgermeister Luca Nicolussi-Paulaz. Mit diesem Intervento, haben wir es praktisch ganz renoviert. Zitra kennt die Macht an Ampliamento auch. Die Schala Atobar ist kennt die grössert. Wir haben die Macht an betrachten BGO an der Hinterseite. Star ist kennt die Arge gezogen. Und wir haben es nicht Wurtiguk, wir haben Scholo Arge gezogen. Wir haben renforziert alle die Mauern. Und auch so ist kennt die Macht an Antischischmico auch. Wir haben es nicht in der Reddart. Mit Kareng, mit Tende, mit Palco. Und es ist an der Stelle die Vigili, die sind sie transferiert. Da, in so einem Mese. Schau, ich sage, es kennt die Nutz. Es ist eine kleine Werte aus dem Sommer. Es ist ein Haus für uns, für alle die Luzerner, importante. Und es ist ein Punkt der Riferimento und für die Sicherheit für alle die Leute, für alle uns. Und wir haben in einer Luzerner in einer Luzerner, nicht ein Körper von Vigidi, mit jungen Leute, starren, um Ravate. Und in diesem Moment haben wir hier die Ambulanz, mit einer Tretante, einer Squadron, die sich geteilt, zu lernen, zu aktionieren. Und so sind sie so beruht, dass es zu zählen Sachen, nicht nur hier in der Luzerner, sondern auch hier in der Luzerner, sondern auch hier in der Luzerner. Dies ist für uns sicherlich ein Motiv, dass sie sich auf die Luzerner vor allem diese Luzernern und wir wollen die Luzernerin und wir wollen sie zufrieden, und wir wollen sie zufrieden, als der andere nützt unter der Karte aller dieser Zeit vor allem die Luzernern und vor allem die Leute von Hoerbohlen. Da werden wir uns wenigstens als 22. September zu machen, diese Inauguration. Es wird eine große Manövra von Pompieren, nicht nur von Luzern, sondern von Kommandant und anderen. Das werden sie morgen machen. Und mit den Tagen werden wir uns wenigstens, mit der Misch. Und dann werden wir auch die Apertura von diesem nahege Haus von Kamau, von der Protektion civile. Wir haben uns in der Bescheidung am 22. September, da ein Tag, und dann morgen wir uns bravige Pompieren und unsere bravige Volontäre von Rotkreuz, in der Karte. Und dann haben wir auch noch ein paar Tage die beiden Sträven in Hümbel und bei Luzern. Aber wir haben uns geholfen und noch mehr. Wir haben in ein paar Tage die beiden Sträven in Hümbel und in Lund wo der Pern fängt von Komp und der Lund nach fängt von Britta. Das Pläbeleile und bei Luzern ist groß und in einem irgendein Moment soll in dem Menü drei wieder ein Röpple wo die zehn beiden Sträven wo der Kante in einander von Hümbel. In der Mitte der Tage wird man gut zählen eine Röntgarte oder Nöne, Hohen oder Niederle Drogen, Klummen oder Große, wo die Gäste oder ganz leise. In der Kante in der Nacht wo man schweigert und wo man stetschstille in unter den Barmendekken hört man im Motor wo ein Röpple, wo ein anderer Röpple und wo ein anderer Röpple. Die Röpple kann man auch über die Luzern so in der eigenen Welt. Als das ist feste und hat dann 100 rumore, dann kann man die Röpple so schweigert werden. Aber spät, wo die 9.5 Juni und die Morgenstelle wo die 5.5.7 hört man passen über die 11 Minuten. In ein paar Tage hat es ein paar Meter und warum die Röpple von Lund deckt auch die Senden von Röpple. Aber dann wenn es schon besser ist, geht es um die Lenz in der Bisch und schaut ein paar Jahre. Wenn man in ein anderer Lund wird weit in der Röpple und weit in einem Röpple kann man sehen dass unsere Humbel machen etwas was anders. sind ein ganz paar andere Plätze wo die Hombel man sollte gehen durch die Mitte in Böcknen als bei der selbe der Dachau ist. Wenn man ein Bild hat etwas mehr wird schauen besser die beiden strämen über unsere Häuser. Während Internet wünscht man die Antwort. Alle die Röpple haben sehr Regeln zu halten härter Wind wo den Können konform mit dem Hombel fluttern balsam sind wo stehen und wo wir nicht passen. In Böcknen sind die zehn große Jahre wo Hombel haben gesperrt in Aeroplay genutzt die esercitazione von Soldaten. Die größte in unserer Land sind das selbe avion und selbe guard. Alle diese Jahre sind auch auf die Karte der Röwe italien. Und die Karte kennt man zu der Böcknen und ganz Böcknen. Die Are wo man nicht fluttern wo avion und selbe guard hacken aus an einen korridor wo alle die aeroplay wo sie wenden zu passaren auf diese Seite oder oder ober in Estetal oder ober in Nettal Als wieder Kinder waren an der Erde wo so steigen bei sie beben beben und weit sind also Kinder sind in Humbold Ober luserno Lavrov passando proprio l'aereovia UL-613, dove la pittà non pittà UL-612, è la maggior parte dell'Aeroplay, che usano un aeroplay, dove il Medio Oriente dovrebbero andare sul Nord, dove la Francia, o in Inghilterra. Se dice che il traffico su UL-613 è star, pittà media, dove un aeroplay ogni via 5 minuti. La banda di aeroplay sono in un'aereovia, sono in un'altra cosa, e in un'altra cosa, ma hanno quasi 900 km per l'ora. Quando la banda di spalle su Terrara, si può essere in un'altra cosa, perché non si può essere in un'altra cosa, perché gli aeroplay dove sono arrivati in un aeroporto dove è visto in Venezia, sono proprio ora un'altra cosa, 2 o 6 km. Se guardate, se dite un'altra cosa, se dite anche che a un'altra cosa, passare in media da un'altra cosa, fino a un'altra cosa, e che non si tratta di 300 km a 500 km, ma anche un'altra cosa, perché in un'altra cosa, in un'altra cosa, fluendo da 5500 km, dove arriva in un'altra cosa, in un'altra cosa, in un'altra cosa. in un'altra cosa, in un'altra cosa, in un'altra cosa, in un'altra cosa, che si tratta di un'altra cosa, in un'altra cosa, in un'altra cosa, in un'altra cosa, con i Ostia, di un'altra cosa, in un'altra cosa, ma anche in un'altra cosa, in un'altra cosa, Ma'erere Werte, poesie, scritte i numeri che gli uomini di Zungminderheiten in Europa sono chiamato tra i pezzi. E due Werte, a 7, hanno già mai diventato il primo prezzo. Bela si è questa Zung, ma ci sono le cose che stanno. Sì, è proprio la Zung di Zimber. La Zung che l'usione è di 7 e di 13 anni. Hairo, dopo i miei grossi Zungminderheiten, Questo è il grifo che diceva di Giovanni Troiano, che diceva di Gitton Ambrasset, il vicinato vuoto. Il grifo che diceva di Antonello Bazzu, che diceva di Cerdaniello, che diceva di Dagiato Asamannu, quando da grande capisci. Ecco, per chi diceva, il grifo che diceva di Bruno Corradi, voce roveronese, che diceva di Acar in Arbotta. e quindi diceva di Sartola, si diceva di Sartola Com 관�i, uno che viene una volta, che si è scritti in simbo di Dagiato Uptro. E' un po' di pensare. E' un po' di lente che si chiama e si chiama e si chiama e si chiama e si chiama, che non si è mai parlato alle tage. E' un po' di più, che si parla che si chiama e si chiama. Inoltre, facendo una buona grammatica e un buon vocabulario, come si chiama e si chiama studiare, in questo caso. E' un po' di scrivere, e' una strada. E' un po' di qui si chiama, che si chiama e si chiama, e' un po' di chiama e si chiama e si chiama. Sì, se si chiama e si chiama, che si chiama e si chiama i suoi da ruote, è in un'inizio. Le scez parrocchie, che si chiama e si chiama, che si chiama, si chiama e si chiama. Questi, come sono. In un'inizio di settembre, in cui sono due grandi grandi bambini, si sono riusciti. Ma molti dei fatti riusciti, si sono di un'unità pastorale che si sono riusciti a lavorare in un'usione. Poi si sono ufficializzati dal Vescovo Votria a Brescia in le stagioni del monaco, con una grande mischia a un sacco di riusciti. Inoltre, in alle dilenze e frazioni che si sono riusciti, in cui sono quasi alle tage, in occasione, si sono riusciti e si riusciti. Siamo in un'altra parte, di un'altra parte, dove la Madonna ci ha indicato. Da dove ero prato, in cui si è venuto in un'altra parte, e si è venuto in un'altra parte, si è venuto a fare un'unità pastorale, e si è venuto a rispondere a un'unità pastorale, rispondere a un'altra parte di Don Lauro, vicario del Diocese. In queste parrocchie, perché nemmero e scegliere tutti insieme, e vivere bene la nostra vita. Ci si sono gli chiedi, gli sbaglianti e tutti i loro loro, e così è sperato, che sia per il vostro yardaggio a passare a queste soli tempi. Sicuramente la nostra lavoro è sempre più netto, che ci sono i giorni, voglio che metti la vita e per loro andando a scoprire i loro. Qua queste tempi e in più ma meno giorni, che ascoltano la vocazione, è sicuramente che un po' di più o di spettere, che non ha mai avuto modo di andare a fare un po' di livello. Un paese, in cui è lavorato in questo paese, è sicuramente più, più, più e meno, più, più. Ma così è la vita, e in questo modo non potete capire il giovane. In Placcio Beba, dovete vedere in un grande settore, con una nuotica grande e metà pastore, per questo paese, è stato fatto in grigio di Nalli, facendo il giocatore del Gepetto. Il suo quadro è stato fatto in una scopera di una scopera di scopera. Il giorno di oggi è stato fatto nel Palazzo Thun Catria dove il Tomas Gasperi, il giocatore di Tondre Künstler, è stato fatto in una scopera. Il giocatore è stato fatto in un giocatore e il suo figlio è stato fatto in un giocatore. Grazie a tutti.